Iniziano a dissiparsi le fitte nebbie per i mille studenti del Nolfi ex Carducci alzatesi a pochi giorni dalla prima campanella a seguito dei noti risultati delle prove di vulnerabilità statica e sismica che hanno imposto alla provincia la chiusura dei plessi scolastici del Nolfi e del Raffaello di Urbino. Domani faranno il loro ingresso come anticipato nel nostro servizio di ieri nella sede dell'Olivetti di Via Nolfi le 7 quinte che inizieranno così le lezioni ordinarie mentre per gli altri studenti già da quest'oggi alle 18 sono iniziate le attività didattiche e formative con un processo coerente con il loro percorso scolastico in attesa di prendere il largo anche loro con l'anno scolastico che avrà inizio il 30 settembre prossimo come disposto dall'ordinanza comunale. Un calendario fito di appuntamenti che comprende anche percorsi scuola lavoro che comunque gli studenti avrebbero affrontato nel proseguo dell'anno come ore concordato tra docenti, dirigenti e assemblee dell'istituto scolastico che avverranno negli spazi dell'ex Carducci non interessati dal provvedimento della provincia ovvero l'aula magna, la palestra e la biblioteca dove peraltro si è trasferita la segreteria dell'istituto in questo periodo. Inoltre è messa a disposizione degli studenti da parte del Comune anche le sale ipogea e didattica della Memoteca Montanari. In questo sforzo il Comune fa la sua parte mettendo a disposizione degli spazi a partire da quelli della Mediateca Montanari per ospitare i docenti e gli studenti dell'Iceo Nolfi proprio per queste prime giornate di anno scolastico perché di fatto questo saranno. Ed è un modo per dimostrare all'istituto che c'è una città intera che è vicina all'Iceo Nolfi e che l'accompagnerà insieme alle sue istituzioni anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi nell'affrontare e risolvere tutti i problemi che potranno presentarsi. I ragazzi e le loro classi saranno allocati nelle sedi individuate secondo un preciso criterio scaturito dalle necessità formative dei ragazzi, arcorpandoli per indirizzo formativo ed individuali dei singoli studenti con disabilità. Tre aule saranno messe a disposizione alla Gandilio, sette all'istituto Olivetti, nove a Palazzo Marcolini nelle aree però indicate idonee dalla precedente verifica sismica che lo ha riguardato e 26 nel Nolfi di Via Tomassoni 2-4 interessato dai lavori in questo momento di somma urgenza per 220.000 euro predisposti dalla provincia e nelle quali troveranno posto gli studenti del biennio. Abbiamo strutturato un programma articolato che da domani parte per tutte le classi e che impegna a seconda delle classi in vari settori con una serie di proposte gli studenti proposte che abbiamo reso note ieri inviandole via mail alle famiglie e anche inserendole nel sito.